Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha deciso di non candidarsi alla segreteria nazionale del PD. Il PD di Pesaro cosa ne pensa? Io pensavo che poi alla fine completasse questo percorso con la candidatura. Più che altro era anche una forma di riconoscenza perché ritengo che possa avere un ruolo importante per una ripartenza dinamica, veloce, sorridente come lui ha definito il suo percorso. Quindi è rimasto sorpreso il segretario? Nessuno era stato informato fino a pochi santi prima? Assolutamente, anzi avevo percepito con l'indizione della conferenza stampa un'accelerazione, l'avevo proprio fraintesa. Un Open Day del PD di Pesaro è un modo anche per riavvicinarsi e riavvicinare i cittadini iscritti e non al partito? Certo, è uno strumento che abbiamo copiato da quello che fanno le scuole in questi giorni, in queste settimane, durante questi momenti le scuole si presentano, presentano la propria offerta, l'offerta formativa. Noi proponiamo la nostra offerta politica, lo facciamo attraverso lo strumento del confronto, faremo un'iniziativa politica e poi lo facciamo attraverso un segno della raccolta di genere alimentari, proprio per dare un segnale di vicinanza alle situazioni di bisogno. Lo facciamo anche con la richiesta alle persone che ci verranno a trovare di tesserarsi al PD per sostanziare una scelta politica, una scelta di campo e una forma per impegnarsi dal basso. Grazie.